Domenica notte, raccordo autostradale del Carso chiuso tra Prosecco e Sistiana in direzione Venezia per i lavori di posa e varo di lastre prefabbricate del Cavalcavia di Sistiana. L'intervento, che consentirà comunque rientro in autostrada al Lizert, verrà effettuato da FWG Strade con interdizione al traffico dalle 20 di domenica 14 luglio alle ore 7 di lunedì. Per la direzione Trieste l'uscita obbligatoria sarà a Sistiana, con possibilità di rientro sempre a Sistiana. L'attività sarà preceduta da uno scambio di carreggiata all'altezza dello Svincolo che partirà dalle 21.30 di sabato 13 e proseguirà dopo la riapertura del raccordo autostradale fino alle 13 di lunedì. Entrato nel vivo anche il cantiere di asfaltature nell'ultimo tratto di circa 3 chilometri tra Alvisopoli e il nodo di Porto Gruaro sull'A4. I lavori si effettuano nella notte quando i flussi di traffico subiscono una drastica diminuzione. Così accadrà tra sabato e domenica quando l'intervento interesserà in particolare la rampa che collega l'A4 provenienza Trieste-Udine alla A28. L'attività necessita della chiusura del tratto dell'A4 compreso tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Porto Gruaro in direzione Venezia. Chiusura che avverrà tra le 20 di sabato 13 luglio e le 5 di domenica 14. Nessun problema invece per chi proviene da Venezia ed è diretto verso l'A28 o prosegue per l'A4 in direzione Udine Trieste e per chi proviene dall'A28 e deve immettersi sulla A4. Come anticipato il cantiere verrà effettuato nelle ore meno trafficate di un fine settimana caratterizzato secondo le previsioni da un sabato mattina e pomeriggio da Bollino Rosso. Si prevede complessivamente il passaggio di circa 188.000 veicoli su tutta la rete gestita da autostrade Alto Adriatico di cui 21.000 all'uscita della barriera dell'Isert, 18.000 a Latisana, 12.000 a Villesse e 11.000 a Sandonà. Domenica 14 sarà caratterizzata da Bollino Giallo sulla A4 in entrambe le direzioni.